The Fine Banking, podcast ufficiale di Azienda Banca, a cura di Alberto Grisoni. Su oltre 400 neobanche e challenger banks attive a livello globale, appena il 5%, cioè circa 13, genera un profitto. Questo dato, diffuso da Simon Coocher a giugno 2022, è stato ampiamente dibattuto online, ma anche prendendolo con tutte le pinze e le precauzioni del caso, non c'è dubbio che dopo il Covid, per tutto il fintech, ma soprattutto per le cosiddette neobanche, il vento è cambiato. Alcune piccole realtà hanno già chiuso i battenti o sono state acquisite, e ci si chiede ormai apertamente quanti di questi player troveranno il modo di generare utili prima di esaurire la liquidità. Ne parliamo in ben due episodi di The Fine Banking, questo è il primo episodio dove elenchiamo un po' di punti deboli del modello delle neobanche. Nel secondo episodio, invece, la prossima settimana, vedremo qualche sfida, qualche area in cui si potrebbe cercare di diventare effettivamente profittevoli, anche se, ve lo anticipo, non sarà facile. Uso il plurale perché non lo farò da solo. Come sempre per questi episodi politicamente poco corretti, mi affianca Gaia Calderone. Benvenuta Gaia! Buongiorno a tutti, ciao Alberto! Allora, entriamo subito sul tema. Dallo scoppio della pandemia in poi si moltiplicano le voci che si chiedono quanto è sostenibile il modello di business delle neobanche. Sul sito di Azienda Banca dobbiamo dirlo. C'è un articolo piuttosto ampio su questo tema, datato già 2020, e da quel giorno le vicende di molte neobanche hanno rafforzato questo dubbio. Eh sì, perché nel frattempo diverse piccole realtà in giro per il mondo hanno chiuso i battenti. Cosa è successo? Hanno esaurito la loro liquidità e non sono riuscite neanche a raccogliere poi dei nuovi finanziamenti. Penalizzate in particolar modo le neobanche più giovani, quindi quelle magari che sono nate poco prima o anche durante la pandemia, e non hanno avuto il tempo materiale per crescere. Ma anche le grandi soffrono perché, pensiamo a una realtà storica come N26, ha annunciato di non essere inutile, anche se punta ovviamente a diventarlo presto. E poi c'è anche un'altra vicenda che ci fa un po' ridere, che è quella dei risultati finanziari di Revolut nel 2021. L'annuncio è stato rinviato di mese in mese in mese per tutto, l'intero 2022. E per farla breve, noi siamo ancora in attesa, quindi se gentilmente volete comunicarlo e svelare l'arcano, Comunque, perché è così importante la redditività? Il tema della redditività è tutto sommato semplice da capire. Per essere redditizia, un'azienda deve incassare più di quanto spende. Questa è la base, è un concetto ovvio la palissiano per le imprese di tutto il mondo e di ogni settore. In realtà, nel mondo delle start-up e delle idee innovative, quello della redditività è un elemento che può essere tenuto in sospeso per qualche anno. Questo perché? Perché gli investitori sono comunque disposti a sopportare qualche anno di bilanci rosso se hanno l'idea di coglierne poi i frutti nel futuro. Quindi investono in aziende che effettivamente hanno la possibilità di trasformare tutto e di creare anche qualcosa di unico. Grazie agli investimenti, le start-up quindi crescono, sperimentano, soprattutto sbagliano, perché devono poi trovare la loro via. Allora, facciamoci un po' di amici nuovi. Il problema è che spesso non si capisce bene in che modo il modello di business di alcune neobanche e anche di alcune fintech, in tutta onestà, dovrebbe essere poi così rivoluzionario. Anzi, per essere ancora più espliciti, oramai facciamo fatica a capire la differenza tra una carta di debito collegata a un IBAN e gestibile via app e l'altra, e ce ne sono decine e decine disponibili in questo momento a un cliente italiano, perché sapete che i player europei possono di fatto andare a offrire i loro servizi in tutti i paesi dell'Unione. Una delle poche neobanche e challenger che genera utili, Monzo, si è messa a erogare finanziamenti, quindi fa un qualcosina in più, ma questo qualcosina in più ha ovviamente richiesto l'ottenimento di una licenza bancaria e comporta dei costi importanti, oltre a esporre ovviamente l'azienda al rischio di credito. La maggior parte delle neobanche, però, sono di fatto tutte incredibilmente simili per i servizi che offrono. Si assomigliano un po' tutte, perché sì, ampliano la loro offerta di servizi in modo rapido e modulare, però finiscono per imitarsi l'una con l'altra. Quindi, se una neobanca lancia, ad esempio, la possibilità di avere una carta personalizzata, anche le altre lanceranno un servizio analogo proprio in breve tempo. Allora, come incassano, come fanno i soldi queste neobanche? Beh, ottengono innanzitutto dei ricavi dalle fee sui pagamenti, che però sono davvero molto, molto, molto limitate, soprattutto per quanto riguarda il segmento retail. E poi, in gran parte, si alimentano con un modello di business che prevede un canone, un abbonamento a un pacchetto di servizi. È qualcosa a cui ci ha abituato la subscription economy, l'economia di internet, no? Così come paghiamo Netflix. Paghiamo un abbonamento anche per fruire dei servizi di una neobanca. In realtà, una sorta di canone c'è anche nelle banche tradizionali. Ma sorvoliamo sul punto. Allora, la maggior parte delle neobanche offre anche una versione base gratis, con una carta di pagamento tipicamente solo virtuale, perché almeno si risparmiano un po' di costi, mentre quella fisica, nel caso, è a pagamento, in genere, una decina di euro. Questa versione base a costo zero è un modo per crescere molto rapidamente in termini di numero di clienti, ad esempio, ma espone anche la neobanca a rischio di attirare clienti che cosa cercano? Servizi gratis o a basso costo? E su questi clienti poi è difficile andare a generare profitti vendendo altri servizi. E infatti ci sono anche delle neobanche che non prevedono una versione gratuita. Con le loro versioni standard fanno già pagare un canone, e questo perché vogliono mantenere l'idea che il loro servizio abbia un valore, anche quando è nel formato base. Tra queste, ad esempio, c'è l'olandese Bunk. Sottolineiamo questo primo aspetto, no? C'è un rischio nello svalutare i servizi che offri, nel dare l'idea che sia tutto gratis, no? Il cliente si immagina che dall'altra parte non ci siano costi. Tornando invece all'abbonamento, la logica dell'abbonamento è facilmente comprensibile a tutti noi, no? In cambio di una cifra fissa, mensile o annuale, il cliente ottiene un pacchetto, i fighetti direbbero un bundle, che comprende un numero di operazioni gratis ogni mese, quindi bonifici, trading, prelevamenti di contanti alla TM, ma a volte anche servizi assicurativi, oppure commissioni di cambio particolarmente vantaggiose. Più operazioni e servizi sono compresi in questo canone, ovviamente più il costo mensile si alza. Anche in questo caso però i pacchetti delle varie neobanche finiscono per somigliarsi tutti. Non ci sono degli elementi dell'offerta che siano propri e non replicabili dagli altri. Tutti alla fin fine si legano alle stesse aziende partner con cui offrire lo stesso prodotto, lo stesso servizio. Tra l'altro, in questi pacchetti, troviamo anche dei servizi, diciamo che potremmo definire quasi VIP, l'accesso alla lounge dell'aeroporto, la polizza viaggio, la commissione di cambio ridotta per i pagamenti in valute diverso dall'euro, che è stata anche citata da Alberto. Si rivolgono quindi a un profilo molto preciso di clienti, solitamente millennial e generazione Z. In pratica sono i globetrotter, i nomadi digitali, come piace anche dire adesso. Sono delle persone che hanno necessità di viaggiare molto, hanno un profilo internazionale, quindi richiedono questi prodotti premium, però alla fine non sono così numerosi da sostenere la redditività di queste neobanche. Questa similarità nell'offerta si riflette poi anche nel prezzo, perché anche per competere l'una con l'altra, le neobanche impostano i canoni dei diversi profili su livelli sostanzialmente simili. I dati di mercato ci dicono poi che su questi canoni non è che ci siano tutti questi grandi ricavi. Allora, se guardiamo il prospetto informativo per la quotazione di Nubank, che è una neobanca brasiliana che spopola tra i guru e chi segue il fintech, ecco, nel loro prospetto troviamo dei dati che ci dicono che i ricavi per cliente sono circa una ventina di dollari per le principali neobanche. Beh, proprio Nubank, che poi è una delle più celebrate adesso sul panorama internazionale, è stata anche protagonista di un IPO. Ma la sua quotazione è scesa moltissimo nell'ultimo anno. Questo perché, nonostante questo altissimo numero di clienti increscendo, poi alla fine i conti economici non sono proprio così buoni. E questo ci porta a un altro problema delle neobanche, l'ossessione per i numeri. Non potendo dare i numeri dei profitti che non ci sono, nella loro comunicazione le neobank puntano tutto sui numeri che possono dare l'idea di una loro crescita rapida. Per dimostrare quanto stanno crescendo, allora le neobanche ci bombardano di cifre. Quanti clienti hanno, quante persone hanno scaricato la loro app dagli store e così via. E sono tutti numeri che, diciamocelo, non contano nulla perché 5 milioni di clienti a costo zero non generano ricavi, sono solo un costo. Questi numeri servono a dare l'idea al mercato che la neobanca sta crescendo, magari per farti vedere più appetibile per una acquisizione oppure appunto per un IPO. Poi però il mercato i numeri li legge e chiaramente la tua quotazione si sgonfia. E l'ossessione per i numeri la ritroviamo anche nella brutta storia di JP Morgan Chase e di Frank. Frank chi è? Frank è una fint americana, è stata fondata nel 2016 e poi è stata acquisita da JP Morgan Chase per ben 175 milioni di dollari. In realtà JP Morgan Chase sta facendo causa alla fondatrice di Frank perché avrebbe gonfiato i numeri della startup creando milioni di finti utenti. Frank vantava più di 4 milioni di clienti. In realtà ne avrebbe avuti meno di 300 mila secondo JP Morgan Chase. E in questo caso è proprio palese lo scollamento tra la realtà e quello che alcune startup ci vogliono raccontare. se non sei in grado di generare utili e abbiamo già visto che non è affatto facile allora puoi tentare la strada dell'acquisizione. Cresci rapidamente conquisti milioni di clienti che di fatto cercano un servizio gratis e ti presenti sul mercato con un servizio di pagamento e simil bancario tutto digitale a basso costo pronto all'uso pronto a essere integrato magari da una banca più grande e in più porti un bel pacchetto di clienti giovani già pronti beh magari qualcuno che ti compra lo trovi. A questo punto però lo scenario è molto chiaro anche alle grandi banche anche in questi giorni stiamo assistendo a trattative di acquisizione che poi in realtà non sono reali trattative perché se un'azienda finta che è in difficoltà e l'unica alternativa è chiudere beh è naturale che il prezzo lo faccia chi compra. Di fatto è un salvataggio perché perché è arrivata al capolinea tutta la narrativa basata su lo dicevamo prima numero di clienti download operazioni tutta quella retorica della rivoluzione del banking che in realtà non rivoluziona proprio nulla perché manca un modello di business chiaro e sostenibile nel tempo anzi in questa strategia basata solo sulle cifre c'è un problema di fondo perché se continui ad acquisire clienti senza avere la più pallida idea di che cosa gli puoi vendere insomma di come fare soldi beh vai solo a incidere sulle voci di costo a cui si somma sempre l'elemento più sottovalutato da parte di chi guarda al fintech la compliance eccoci al rispetto degli obblighi normativi lo sappiamo costa tantissimo essere compliant alle banche tradizionali e anche a tutte le aziende poi che operano in un settore iper regolamentato come quello finanziario e bancario anche le fintech sono ovviamente soggette a questa normativa e negli ultimi anni non sono mancati gli interventi della vigilanza per stoppare un operatore o l'altro non considerare quindi il costo della compliance alla fine è un errore fatale ed è importante anche considerare il costo rapportato alle tecnologie a disposizione perché spesso la vigilanza è intervenuta per segnalare che determinati processi molto automatizzati non erano come dire adatti a garantire un KYC una verifica di identità del cliente per l'antiriciclaggio ad esempio sufficiente su questo vi segnalo quello che è accaduto nei Paesi Bassi dove Bunk che in realtà non è esattamente una diomanca perché ha licenza bancaria ma qui le definizioni sono un po' sfumate quindi passateci il termine ha fatto ricorso contro la vigilanza nazionale e l'ha vinto nell'ambito dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale ai fini del KYC ci torneremo con un po' più calma perché la vicenda è ancora in corso la banca l'ha comunicata ampiamente ma abbiamo bisogno di qualche dettaglio in più diciamo che abbiamo chiesto di parlarne ma è ancora presto allora siamo arrivati alla fine di questo primo episodio sulla crisi delle neobanche abbiamo visto come tutto origina il problema del modello di business che sembra più orientato a fare hype che a generare effettivamente profitti nel medio e nel lungo termine con tutti i problemi che ne derivano anche sul fronte della comunicazione che ci chiama in causa in prima persona dobbiamo ovviamente fare un paio di precisazioni tutto quello che abbiamo detto vale per le neobanche o challenger che si rivolgono soprattutto al pubblico retail ai consumatori mentre per le PMI il discorso è diverso ma ne parliamo la prossima settimana seconda precisazione i temi di oggi valgono per le neobanche indipendenti insomma le start up o le ex start up cresciute il discorso è completamente diverso per quelle neobanche che nascono all'interno di gruppi bancari tradizionali perché in quei progetti si è perfettamente consapevoli e ce lo racconta sempre chi ha lavorato a questi progetti che beh la generazione di profitto non è una priorità nel breve termine l'obiettivo di spesso è sperimentare tecnologie e modelli di servizio oltre che fidelizzare una clientela particolarmente giovane che potrebbe eventualmente diventare profittevole in futuro magari in sinergia con le care filiali tradizionali e questo ci porta a uno dei temi del prossimo episodio sulle neobanche ovvero puntare agli utili offrendo servizi a valore aggiunto come ad esempio la consulenza poi parleremo anche di qualità del servizio di specializzazione su nicchie specifiche e la sfida delle super app sì insomma vedremo in che modi una neobanca può provare a differenziare il proprio modello di business intanto ci fermiamo qui alla prossima settimana buona settimana a tutti